Buongiorno a tutti e ben ritrovati con gli appuntamenti quotidiani dedicati alle singole analisi sia per quanto riguarda il mercato valutario, il mercato degli indici, le varie commodities. Oggi concentreremo la nostra attenzione su un indice particolare, il DAX. DAX che fondamentalmente il nuovo mese, la nuova ottava, nonché il nuovo mese ha avuto una partenza rialzista in un deciso e vistoso gap dovuto fondamentalmente all'euforia che è attraversato i mercati all'apertura della settimana dovuta al calo delle tensioni fra Cina e Stati Uniti. Ma ovviamente il presidente cinese Xi Jinping mette in guarda il taekwondo new yorkese sulla facilità con cui sarà trovato un accordo. Quindi diciamo che al momento si può parlare di un accordo, di una possibile resa momentanea, ma è ancora molto lunga la strada per trovare un accordo definitivo. Ovviamente bene è stata questa resa momentanea, ha giocato un po' anche su Huawei che ha un po' aperto le strade verso una commercializzazione anche negli Stati Uniti. Ma ovviamente questa situazione potrebbe comportare ulteriori movimentazioni a ribasso per quanto riguarda le principali borse finanziarie europee, per il semplice motivo che dopo questa ondata di euforia che è prevalsa subito dopo il G20, si potrebbe tornare un'altra volta sotto pressione, quindi in fase di risk off per quanto riguarda, quindi avversione al rischio per quanto riguarda gli indici, soprattutto perché già durante la notte ci sono stati diversi agenzie di stampa, soprattutto in Cina, in particolare il China Daily, quotidiano che poi viene anche tradotto in lingua inglese, usato da Pechino per mandare messaggi al resto del mondo, dove praticamente mettono in risalto la situazione che al momento è molto lontano un accordo. Anzi, per loro si legge dal giornale, anche se Washington ha accettato di rimandare le nuove tariffe sui prodotti cinesi per far spazio negoziato, e Trump ha persino suggerito di mettere in pausa le decisioni su Huawei, le cose sono ancora abbastanza fumose. Infatti, durante l'ultimo incontro tenuto tra Trump e Xi Jinping sulla questione Huawei, la più grande compagnia di componenti per telecomunicazioni al mondo, secondo il presidente degli Stati Uniti Huawei ha legami troppo stretti con l'amministrazione cinese e quindi è pericolosa per la sicurezza nazionale. Addirittura, praticamente, la parola Huawei davanti agli altri diplomatici intervenuti durante il simposio tra i due rappresentanti cinesi e americani non è mai stata pronunciata, per questo l'annuncio è stato accolto piuttosto freddamente in Cina. Questa situazione già si vede dalle prime battute della nuova settimana dove, appunto, vedete, graficamente dopo questo deciso movimento, questo gap che ha spinto gli indici durante l'inizio della giornata di oltre, vedete, di oltre 200, oltre i 12.500, adesso già sta virando al ribasso. Questa situazione potrebbe essere ulteriormente importante, questo movimento ribassista da poter valutare anche nelle prossime sessioni di trading. Ma andiamo a vedere dove si è fermato e che cosa è successo proprio dal punto di vista tecnografico. Dopo aver analizzato le notizie l'hanno spinto al rialzo, quindi con questo vistoso gap. Bene, al momento il prezzo si è fermato esattamente a 12.622,10, livello annuale massimo importante, massimo anche massimo storico ed sul livello di prezzo a 12.592,80 che è stato testato l'ultima volta quest'area, quindi questa zona, area di supply, esattamente nel fine mese di agosto dell'anno scorso, quindi circa un anno fa. Vedete, questo è una movimentazione di stampo ciclico, il prezzo è ritornato un'altra volta ai prezzi del fine agosto del 2018. Questa situazione ovviamente potrebbe, oggi potrebbe già iniziare a ricoprire, non dico quasi tutto il gap, ma buona parte del gap e potrebbe ritornare verso quei famosi 12.450, altra area interessante dove è stato testato, area testata per più volte, 1, 2, 3, 4, 5, per ben 6 volte. Quindi ottima zona dove andare a prendere il prima zona di profitto, poi in caso di rotture di 12.450 i prezzi potrebbero raggiungere nelle prossime sessioni, 12.326,40 ovvero il livello annuale, per poi andare a riprendere il pivot, quindi questa è un'altra zona interessante, 12.150, pivot mensile da dove qua si gioca la partita, ovvero in caso di rottura di questo pivot mensile, nonché livello di prezzo a 12.106, eccolo qua, guardate come è andato a riprendersi questa zona, sotto i 12.106 il prezzo potrebbe spingersi fino a raggiungere questa zona, un'area di demand, eccola qua, quindi questa è un'area molto interessante tra 11.618 e 11.542, quindi potrebbe andare anche a testare quindi questa zona, quindi una discesa al momento dove è partito il movimento di ben quasi 1000 punti, ovviamente questo potrebbe essere interessante da seguire per il mese di luglio. Bene, per oggi è tutto, grazie mille per l'attenzione, ci aggiorniamo al prossimo appuntamento, buona giornata a tutti.